Un saluto a tutti da Snookies e ben ritrovati in un nuovo rapidissimo video dove ci andiamo a aprire questi 13 pacchettini e ci potrebbe essere del bordello di fondo ma non fa niente, direi che siccome li devo aprire non potevo fare altrimenti che fare adesso questo video rischiando rumori molesti e non voluti, quindi apriamoci prima questi cerchiamo di alleggerire un po' il carico di polveri che mi servono per creare dei buoni deck con questa nuova espansione avendoci ricominciato a giocare diciamo che ho saltato un'espansione mi trovo un po' il tiro indietro delle carte ho assolutamente bisogno di magari un paio di leggendari a tema con questa nuova espansione ci siamo per lo più sono tutti doppioni, mettiamoci questo pack quel drake allora mago non mi interessa parlo di più o meno perché non li gioco il guerriero mi piace non c'è niente non trovo deck buoni col guerriero il mio preferito il guerriero è il cacciatore vabbè almeno uno del guerriero se lo abbiamo sarà questi 9 lo vediamo le avrò tutte le classi una dorata tutte le classi buono ecco i rumori appunto speravo di non avere se ne credo di battaglia metto un servitore un avversario va bene andiamo subito con questo parlo di tutte le classi tutte le classi vabbè vediamo un po' ho una del guerriero assalto 30 di morte mentre ho una domanda due passeggeri uno a uno con assalto va bene anche ho visto che c'è un deck bello forte con lo sciamano per ora nessuna leggendaria ma un'epica un'epica del guerriero ci piace ci piace oltre all'attaccato più più uno robot un dragon un pirata una domanda un deck che è un po' bisogno di fare oh un cacciatore di demoni che c'ero già un deck che davano tanto forte un botto giocato io francamente tutta sta forza in quel deck non l'ho vista comunque anche lo stregone bello va bene andiamo ancora a queste pacchettini cacciatore di demoni questo non ce l'avevo in tutte le classi una scongione dorata in tutte le classi e una rara va bene tre pacchettini rimasti almeno una leg una del guerriero buono si è tutte spaiate così ultimi due pacchetti niente leggendaria niente leggendaria dai in questo ultimo pacchetto cacciatore di demoni ultimo pack attenzione in ricerca di una leggendaria si soprano sfide ma no ma no l'ultima niente leggendaria una anche finalmente una del cacciatore è un pirata appunto va bene ragazzi allora direi che per questo video è tutto a meno che non mi da mi sblocca qualche cosa facendo così ma no ovviamente no e quindi lasciate un bel like al video e oltre a iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti ci rivedremo nei prossimi giorni per altri video e niente non c'è proprio nient'altro da aggiungere vediamo se non quante polveri ci sono quante se ne possono fare soltanto 50 10 quindi un bel po' di carte nuove io vi saluto e ci becchiamo come sempre nel prossimo video